L'offerta turistica integrata di Capaccio Pessum sarà proposta ai buyers internazionali nel corso del TTG Travel Experience, una delle più importanti fiere dedicate al turismo in programma dal 10 al 12 ottobre a Rimini. La proposta sarà tutta racchiusa nel brand Costa Pessum, con cui il comune di Capaccio Pessum si candida a diventare destinazione turistica, offrendo al visitatore la possibilità di fare una vacanza esperienziale unica. La fiera turistica riminese, tra gli appuntamenti più attesi in Italia, vedrà la presenza dell'istituzione Poseidonia, la partecipata del comune che si occupa esclusivamente dell'attività promozionale.